Siamo con Stefano Baroni, sempre qui dal Palla Ferrerin al termine della sfida che ha visto i padroni di casa del Breganze vincere per 6-0 contro il Rollo e Bassano. Stefano, alla fine del primo tempo probabilmente, come abbiamo sottolineato in telecronica, meritavate molto di più di quello che si poteva vedere dal punteggio perché comunque avete espresso un ottimo gioco, arrivando tante volte davanti anche al portiere Zanfi che ha fatto i miracoli, diciamo così, per i primi minuti del secondo tempo. Il gol di Dalla Valle ha dato una prima iniezione di fiducia ai ragazzi del Breganze. Voi avete sempre creato molto, i ragazzi del Breganze hanno difeso molto bene, però ecco sì, alla fine non siete riusciti a trovare un gol che potesse sbloccarvi. Sì, purtroppo davanti non siamo stati concreti, si è visto un po' dalla voglia di giocare da soli, un po' di esperienza, poi purtroppo è andata così, insomma, non siamo riusciti a concretizzare davanti alla porta. Poi difesa purtroppo ne parleremo, insomma. Sì, sicuramente era una partita molto sentita, come dicevo prima, per la classifica ravvicinata che c'è per questa qualificazione di Coppa Italia. Adesso affronterete il 19, il Tiene, un'altra squadra impegnativa. Sì, però almeno sarà in casa, vedremo di almeno riuscire a fare qualcosa in più in casa e speriamo che vada bene, insomma, almeno quella e alla fine purtroppo ci servivano anche questi tre punti e purtroppo li abbiamo dati via e vedremo come andrà a finire la classifica, visto che le squadre erano tutte lì, insomma. Certo, ti ringraziamo per la tua disponibilità e ti facciamo un in bocca al lupo per il proseguo della stagione. Grazie, grazie.